Circa 41,9 milioni di euro di fondi del bilancio regionale per il diritto allo studio, ai quali si aggiungono gli 8 milioni stimati del Fondo Integrativo Statale per un investimento totale di 49,9 milioni. È il Corredo Complessivo di Risorse che, insieme alla riforma che ha riunito i quattro ERSU nell'ERDIS, ente regionale unico per il diritto allo studio, che sarà ufficialmente operativo dal 1 gennaio 2018, ha lo scopo di incentivare e migliorare i servizi del diritto allo studio per tutti gli studenti marchigiani, alloggi, menze e contributi. Le iniziative in corso sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa. Questo è il primo anno di ERDIS, di un sistema unico, a tutti gli studenti nella regione Marche, gli universitari accedono nella stessa modalità alla borsa di studio. Una volta ogni area aveva un po' i suoi metodi, strumenti o altro, oggi tutti, oltre ad aver ricevuto una risposta, hanno risposto di tipo omogeneo. Quindi gran parte dei studenti avranno anche la quota della borsa di studio in denaro, gli altri per ora in servizio, poi con il FUS definitivo vediamo anche cosa accadrà nel resto del sistema, però ecco la novità è che di fronte ai timori del cambiamento si sta dimostrando invece efficace un metodo che dà tutti gli stessi diritti. Con questo nuovo ordinamento viene migliorata l'erogazione del servizio allo studio e quindi delle borse di studio, degli alloggi, di tutto ciò che concerne il diritto allo studio. Abbiamo intanto raggiunto, siamo a metà strada, diciamo a tre quarti per essere più precisi, non abbiamo più i quattro ERSU, ma abbiamo un ERDIS, un ente unico, secondo le direttive del Ministero. Abbiamo avuto la graduatoria unica per le borse di studio e quindi siamo anche contenti perché non ci sono idonei non beneficiari, ma tutti i ragazzi hanno avuto la borsa di studio e queste sono delle notizie positivissime. C'è un'energia e una sinergia di risorse notevoli che va dai 9 milioni emessi dalla Regione Marche per la prima volta nella storia della Regione, più i fondi ministeriali, più il fondo del Sisma, più tutto l'impegno e l'intendimento forte di incentivare con una garanzia economica il diritto allo studio marchigiano. Quello che ci manca è vedere la forma della gestione e adesso con un grande dialogo con gli Atenei e con la componente studentesca e con il personale dell'ERDIS vedremo qual è la soluzione migliore per la gestione fisica. La Costituzione prevede che la borsa di studio vada data agli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi. Quindi il requisito è quello del reddito, quindi un requisito ISEE, non il reddito vero e proprio ma quello che è calcolato secondo il cosiddetto ISEE, l'indicatura di situazione economica equivalente, ed il requisito del merito, ossia sostenere gli esami universitari per tempo. La legge prevede una scala sia per il reddito che ogni regione può stabilire, nella regione Marche il reddito ISEE è stabilito a 21.000 euro, mentre per quel che riguarda il merito c'è tutta una serie di requisiti che riguardano dal secondo anno in poi perché nel primo anno riguarda evidentemente solo il reddito. In che cosa consiste la borsa di studio? La borsa di studio consiste in una quota che corrisponde all'alloggio che vale circa 1.900 euro, una quota mensa di circa 1.500 euro e una quota in denaro di circa 1.000 euro, quindi 4.500 euro circa più o meno all'anno, questo all'anno. Ovviamente a seconda, questo nel caso in cui si abbia un reddito molto basso, man mano che il reddito cresce c'è una scala di equivalenza e la quota in denaro cala, gli altri due benefici rimangono sempre intatti, quindi sia mensa che alloggio. Quando l'ente non riesce a dare l'alloggio a tutti gli studenti, poiché pur avendo 3.500 posti letto ed essendo uno degli enti più dotati d'Italia, circa i posti letto, qualche studente rimanga fuori, l'ente dà la cosiddetta monetizzazione, cioè l'equivalente in denaro. Lo studente che ti produce il contratto di affitto, della durata di 10 mesi, riceve i 1.900 euro previsti per la quota alloggio.